ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale quindi come vedete prize ride abbiamo la comet sr dovete arrivare tra i primi nelle gare insomma clandestine per tre giorni di fila per vincere questo veicolo come al solito ragazzi mi raccomando lasciate mi piace è veramente importante non vi costa nulla e soprattutto iscrivetevi al canale mi raccomando per insomma rimanere aggiornati con tutte quante le guide poi giocatori in caso vi servisse avete visto il veicolo del test rack il veicolo del podio esclusiva next gen quindi solamente ps5 xbox series x e queste qua sono le novità dell'autoratuno passando invece al veicolo del podio del casino abbiamo la wagner come vedete eccola qui potete vincerla girando la ruota oppure facendo insomma il glitch per vincere le auto girando la ruota perché non insomma non vi capita ho portato il video sul canale invece da luxury autos abbiamo la taigon e la stafford come vedete questi due veicoli sono questi qua che potete comprare direttamente senza provare invece da simeon come vedete dal video abbiamo la hustler la swinger la michelli gt la hermes e la jb700 quindi sono questi cinque veicoli qua che potete provare o direttamente acquistare come ogni settimana e ovviamente cambiano quindi questi qua sono i veicoli di simeon proseguendo per quanto riguarda gli sconti abbiamo il bombushka in sconto sul sito warstock poi abbiamo il super volito scontato come vedete dal video e poi abbiamo il titan come vedete anche questo è scontato poi abbiamo anche la venger visto che questa settimana ci sono dei bonus sulla venger abbiamo anche questi due veicoli la hermes e la stafford che sono appunto scontati per qualche motivo non mi uscivano quindi riavviate perché sono effettivamente scontati invece per quanto riguarda i business in sconto abbiamo questa settimana le agenzie con le relative modifiche quindi andatevi a comprare l'agenzia come vedete dal video è scontata ed è insomma un ottimo business per fare i soldi quindi vi consiglio assolutamente di comprarla in più questa settimana abbiamo il 50 per 100 negli hangar per i recuperi carichi aerei con rooster che sarebbe il tipo qui che recupera il carico al posto al posto vostro insomma invece di 25mila si prende 12.500 per quanto riguarda i soldi doppi questa settimana ce l'abbiamo su tutte quante le missioni della storia del insomma dell'avenger del nuovo dlc quindi quelle di charlie praticamente e poi abbiamo anche i soldi doppi su appunto le missioni degli lsa che come vedete pagano veramente tantissimo come vedete in 10 minuti fate 100 mila dollari ma neanche 10 minuti forse anche meno quindi assolutamente da fare e poi abbiamo tutte quante le gare con appunto gli aerei che trovate insomma nel menu in più sempre nell'agenzia abbiamo tutti quanti i contratti confidenziali con soldi ed rp doppi come vedete si guadagna veramente tanto e sono facili quindi vi consiglio assolutamente di farli probabilmente domani arriverà anche la guida su come fare i soldi quindi vi invito a guardarla concludiamo con le prove a tempo che sono le seguenti spero che questo video vi sia stato utile vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video